vede centralmente Zeroli, pallone però che torna indietro, Simic ha un po' di campo e allora sale Giancarlo Simic Zallu disegna con il destro in avanti, chiude Giancarlo Simic, per via centrali non ci riesce, recupera però proprio lo stesso 23 rosso-nero, il Milan si distende sulla sinistra, Zallu servito adesso da Belloni, cross all'indirizzo di Conatè controllo orientato, tiene botta per il momento Conatè, scarico ancora per Zallu, cross che arriva all'altezza del dischetto torna in campo, non giocava da ottobre, problemi alla schiena per il numero 10 in avanti adesso il Cagliari con Cadeo, Simic intercetta, non c'è contatto ma l'ultimo tocco è quello del centrale serbo del Milan calcio d'angolo, 15, uno sguardo in avanti e pallone verticale che arriva in questo momento Conatè combatte con Andrei Kubis, ma il loro duello è inutile perché il pallone viaggiava da un'altra parte per il momento ingabbiato Conatè tra i due difensori centrali del Milan e forse si prende anche un rischio ma alla fine efficace, Zallu in avanti, Simic così così ma alla fine il Milan, Riad Idrissi, lunghissimo con il mancino, Bakune buca l'aggancio, Vinci Guerra combatte si gira e ha il pallone tra i piedi, scappa via Vinci Guerra, poi rimontato da Bakune che non molla fino all'ultimo e alla fine si riprende il pallone con un ottimo intervento sbaglia Simic, ha una seconda possibilità, Ugo Cuenca prova ad inventare Stalmak corto, il fraseggio del Milan sempre a cercare di richiamare anche un po' a sé la pressione del Cagliari, far alzare Bonava però non lo serve, temporeggia forse anche un attimo di troppo poi apre sulla sinistra, Bozzolan regala il pallone a Conatè, Simic su Conatè, combatte il 27 e bravissimo Giancarlo Simic, riparte ad eschiere di Mr. Filippi, lui è Palomba sono il must in difesa per quanto riguarda i rosso blu, anzi Zallu sgasa il Cagliari, prova la verticale Zallu, intercettata però senza problemi da Giancarlo Simic si tratta di Luca Belluni con le finte di corpo, poi però non affonda e allora Simic cerca di guardare anche lui in verticale, cambio di gioco disegnato da Giancarlo Simic buona apertura per Adam... Zallu, prova subito ad andare lungo con il destro pallone su cui non può intervenire Caddeo, poi Caddeo, giocata e tanti avversari saltati orizzontale, Carboni, triangolo in area di rigore, Giancarlo Simic anche scivolando poi tocca forse con un braccio, non secondo l'arbitro, le proteste da parte Edia qui non c'è il fallo su Ciacatraore, questa è l'occasione, scivola due volte Simic poi cerca di nascondere il braccio, un minimo contatto probabilmente c'è comunque stato tra braccio e Matteo Centi, non c'è nulla, si gioca Conate, cross a rimorchio con il mancino vinci guerra, controllo Simic su di lui, con il fisico Simic recupera il pallone senza commettere fallo calcio d'angolo battuto da Carboni, pallone che passa, Simic devia, poi ancora a contrasto pallone in avanti ancora il Caglia, ricerca di farsi vedere, recupera il pallone, ora rimette in gioco lungo lancio alla ricerca di Jordan Longhi, anticipato, Simic invece nonostante il rimbalzo non si fa anticipare, Kuziki, ancora Simic, Ciacatraore, vicino all'Alma che non ci può arrivare Ciacatraore, arba centrale, pallone girato di prima, Masala, c'è però ancora una volta Giancarlo Simic a chiudere, Bozzolani in lomba, controllo con l'esterno, apertura, Masala di prima in avanti, Sulev corre, Simic ancora una volta cerca di buttare il pallone via dallo stadio adesso gioca il Milan anche per linee orizzontali, Simic, Masala su di lui, apertura sulla sinistra Bartesaghi si sbottona questa volta